Sembra ormai fatta, Giacomo Cenetti si avvicina sempre di più a vestire la maglia dell'Arezzo e a lasciare il Bassano. Mediano, classe 1989, avrebbe raggiunto un accordo con l'Arezzo, adesso si attende solo e lascia passare da parte della società giallorossa. Farà la differenza probabilmente quanto l'Arezzo sarà disposto ad offrire al Bassano. Questa era la sua quarta stagione al Bassano, sette le presenze raccolte in questa prima parte di campionato, mentre erano state venti le presenze nella scorsa stagione. Aveva iniziato in Serie D nella Sarzanese e poi aveva passato a tre stagioni nel Carpi. Un quotidiano locale della zona di Bassano scrive Giacomo Cenetti si è accordato con l'Arezzo dove ritrova il suo mentore Sottili che gli faceva una corte spietata dalla scorsa estate e se l'era portato con sé già a Venezia ancora prima di approdare al Bassano. L'ultima parola spetterà comunque proprio alla sua società di provenienza. Intanto, come aveva ricordato Roberto Gemmi nella sua intervista dopo la vittoriosa sfida con la Carrarese, sono diversi i giocatori dell'Arezzo ambiti da più società. Tra gli ultimi interessamenti è spuntato quello della Salernitana per Polidori, le cui sette reti ovviamente hanno fatto parlare molto di sé. Sempre vivi gli interessi per Foglia, per Luciani e anche per altri giocatori dell'Arezzo. Ma Gemmi, a questo proposito, era stato chiaro. Io ho sempre detto che ho un tarlo in testa, la proprietà ha un tarlo in testa, che l'Arezzo costantemente bisogna migliorarlo. Quindi noi stiamo cercando sempre di migliorarlo. Quindi da questo aspetto fortunatamente abbiamo una richiesta di più di un calciatore. Sei. Però è il mio obiettivo. L'obiettivo della proprietà principale è quello di tenere tutti i calciatori, tutte le richieste che si sono fatte. Poi a una richiesta irrinunciabile come quella di Vincenzo Bevo ci sederemo e penseremo. Però il mio obiettivo, il lavoro più importante di questo mercato è proprio quello di tenere tutti i calciatori, delle richieste che i giocatori ci hanno richiesto e quello di continuare a questo periodo di crescita.